La vita a volte può essere segnata da avvenimenti tragici, errori che la sconvolgono e che rendono difficile riprendere il cammino. Quel che conta è non lasciarsi sopraffare dall'odio, dal dolore e dalla disperazione e sapersi riscattare. E' quel che succede a Jenny Fleiris, il protagonista del libro riscatto scritto da Melo Freni, che è stato presentato al Museo Diocesano di Caltanissetta nell'ambito degli appuntamenti in mercoledì di Storia Patria, promossi dall'omonima associazione. Qual era stata la colpa di questo giovane protagonista? Era stata la vendetta, tragicamente parlando, per l'uccisione della moglie in un agguato di mafia. Era stata uccisa la giovane moglie insieme col padre, che era il medico, che era un papà medico e mafioso. Questo bravo ragazzo, Jenny, si trova coinvolto in questa storia di criminalità e si fa vendetta con le sue mani per recuperare in un lungo periodo di detenzione, che ciascuno di noi potrebbe essere Jenny, ciascuno di noi potrebbe essere coinvolto, in bene o nel male, lo siamo un po' tutti, tutti siamo responsabili in parte di quello che succede, però dobbiamo avere la forza di reagire e possiamo reagire non in tanto in quanto da soli, ma in tanto in quanto possiamo godere della solidarietà degli altri. E lui durante questi anni di prigionia riscuote, gode della solidarietà del carceriere, del superiore, dell'assistente sociale, degli altri pochi compagni di prigione, dei due cappellani. Ecco, Dio ha bisogno degli uomini, però per arrivare a Dio l'uomo ha bisogno dell'uomo. Riscatto, un libro di Melofreni, che è uno scrittore siciliano affermatissimo a livello nazionale, amico personale, amico delle iniziative di Storia Patria, quindi siamo felici di farlo, anche perché si è realizzata una bella congiuntura, che è presente anche qui, un altro caro amico, amico di Storia Patria, che è tifosissimo, che è lo scrittore Matteo Collura, che ci ha onorato la sua presenza proprio perché si presentava un libro di Melofreni che è amico suo e mio. E io sono onorato di questo, sento la responsabilità, sarà una bella esperienza perché il dottore Melofreni è un personaggio affabilissimo, ha scritto un romanzo molto bello, molto leggibile, di grande attualità, il percorso di riscatto di un singolo, di un siciliano, che ha pagato poi con un atteroico il suo passato criminale e al tempo stesso questo riscatto è emblema, metafora, immagine del percorso di riscatto di un intero popolo, di un'intera regione che è la Sicilia.